Come creare un'atmosfera sognante al pianoforte. Vi svelo una tecnica davvero molto efficace per improvvisare al pianoforte. Possiamo creare un'atmosfera da sogno usando la nona su qualsiasi accordo minore settima. Questo accordo di cinque suoni, chiamato anche nona di seconda specie, è formato dalla fondamentale, in questo caso il re, la terza minore, la quinta giusta, la settima minore e la nona. Suoniamo con la mano sinistra la fondamentale la settima, mentre con la mano destra suoniamo la terza, la quinta, la settima e la nona. Un'ottava alta. Realizziamo quindi una sequenza utilizzando gli accordi sempre in questa disposizione. Fino a quando userai gli accordi in i minore settima con l'estensione alla nona, potrai passare da un accordo qualsiasi ad un altro senza problemi. Ecco cosa è possibile realizzare utilizzando questa tecnica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.